Grazie. Senatrice, qual è il suo concetto di Europa ideale? Un'Europa dove l'Italia possa diventare grande, quindi che non obblighi un paese, una nazione a applicare politiche che la danneggiano, un'Europa che sappia parlare una voce sola in politica estera di difesa e diventare così quell'attore tanto necessario sullo scenario internazionale. Visto che le elezioni si stanno avvicinando, qual è un messaggio che vorrebbe mandare a tutti i cittadini? Che votare l'Europa è importante, perché l'80% dei provvedimenti che noi processiamo nel Parlamento italiano sono di derivazione europea ed è lì che noi dobbiamo difendere i nostri interessi. Perché votare Forza Italia? Perché Forza Italia è un voto utile, è l'unico partito dello schieramento anche di centrodestra che appartiene al Partito Popolare Europeo, partito di maggioranza europea in Europa, e lì contano le famiglie europee e non i partiti nazionali, quindi Forza Italia sta in un luogo dove potrà incidere.